Bella ragazzi qui è Ron e bentornati eccoci con questo nuovo video sono qui oggi con voi con un nuovo sniping in live in tantissimi di voi l'hanno chiesto ultimamente su facebook poi comunque era tantissimo che non facevo questa serie sul canale quindi oggi sono tornato con voi faremo un paio di partitine con il cecchino così giusto per soprattutto vedere diciamo la nuova patch che hanno fatto settimana scorsa che moltissimi di voi sapranno oltre ad aver fixato vabbè i soliti vari bug soprattutto su zombie su bari ed hanno fatto un sacco di fix di vari bug hanno sistemato un po' di cose nel gioco ma cosa molto importante che riguarda le armi oltre ad aver leggermente potenziato la N ma niente di particolare hanno anche rallentato un pochettino i due cecchini DSR e Ballista non so perché l'abbiano fatto adesso però già comunque su Black Ops non era molto facile usare il cecchino rispetto magari a Modern Warfare hanno deciso di depotenziare depotenziare no perché comunque il danno è lo stesso però comunque hanno rallentato sia a livello di mira leggermente ma soprattutto tra un colpo e l'altro in particolar modo il DSR è un po' meno il Ballista quindi faremo queste partitine per vedere un po' insieme com'è la situazione ovviamente durante la partita io cercherò di dirvi il maggior numero di news e informazioni possibili perché ce ne sono veramente tante e niente ragazzi ci vediamo tra pochissimi secondi con le partite bella eccoci qui ragazzi abbiamo trovato la lobby siamo arrivati su Express una mappa che raramente si è vista nel mio canale non so perché non è mai capitata spesso insomma e iniziamo col DSR che comunque è il più difficile dei due perché comunque adesso che l'hanno rallentato così tanto è più difficile da usare rispetto al Ballista a questo punto rimane tipo diciamo il Ballista come cecchino diciamo più giocabile più utilizzabile insomma comunque cercherò di dirvi un paio di cosette durante il live anche se è molto difficile sempre quando si cerca di usare un cecchino perché bisogna essere molto concentrati e niente vediamo un pochettino come va poi durante la partita spero di dirvi qualcosina ho già visto il primo che mi ha già puntato probabilmente no non mi ha inculato di striscio quello è morto ahia eh sì pezzo di merda niente io mi alzo con la testolina leggermente non c'è più nessuno oh l'ho preso l'ho preso due volte clamorosamente tra l'altro boh non si sa perché va bene qua l'ho fatto double ah no no era un bug del gioco comunque ragazzi ho visto che vi è piaciuto molto molto l'ho preso l'avevo preso però non l'avevo ucciso ho visto che vi è piaciuto molto l'ultimo video del live obiettivi quindi vi ho chiesto se volevate che diventasse una serie tantissimi l'avete detto quindi probabilmente diventerà una serie che ci accompagnerà diciamo da da qua al prossimo mesetto e mezzo insomma quando uscirà poi GTA 5 FIFA 14 madonna se sbagliate un colpo col DSR non lo prenderete mai dopo il primo iniziamo sempre con le grandi rimontone noi perché dobbiamo sempre rimontare partendo di merda all'inizio comunque quindi diventerà una serie quella del live obiettivi che ci accompagnerà da qua il prossimo mesetto e mezzo non so quanti bisogni riuscirò a fare e per quanto riguarda i prossimi video intanto qua sto facendo il giro giro tondo perché so che arriva da qualcuno da qualche parte ma l'ho giustamente sempre dietro dalla parte dove sto guardando per i prossimi video cioè il prossimo video che sarà un video nuovo diciamo che non ho mai fatto sul mio canale e mi avete visto però giocare a quel gioco sul canale di un altro amico youtuber se non vi spoilerò altro perché surprise però comunque è una vita che voglio fare una cosa del genere e oh no 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 perché porca puttana me che cazzo c'ho sono fosforescente nella mappa qua arriva un attimo un attimo vieni qua yeah e quindi è una vita che voglio cercare di farvi un video di quel tipo sul canale penso che possa diventare anche una cosa carina quindi ve lo farò avere come prossimo video che comunque dà anche un po' di varietà al di là di code che comunque vabbè sapete che il canale beh il canale è un canale basato su call of duty comunque pian pianino mettiamo un po' anche di varietà al come è già successo con battlefield così queste cose qua e poi dovrebbe arrivare anche il fuck you time come secondo video dopo quello che deve arrivare adesso no niente ma gli vado no vaffanculo dove andarlo a inseguire è arrivato il treno a rompere il cazzo e niente poi per il resto da metà agosto in poi dovrebbero arrivare tanti video abbastanza interessanti nuovi così però non vi voglio sculerare niente diciamo un po' di sorpresa la cosa potrei essere fraintendibile se dico quello che sto per dire sul fatto che muoia sempre da dietro però porca puttana che palle allora l'express è un po' col cecchino è brutta perché bisogna stare in questi posti abbastanza larghi e cercare di prendere la gente con calma dalla distanza perché se si va in mezzo alla mappa non è che ci sia molto spazio per fare il tutto vieni qua aiuto mi sento in mezzo alla mappa eh arriveranno da tipo qua sopra adesso siamo 11 pari ce la no ce la possiamo fare sarebbe tipo la Bruno Pizzul cacciarci una Iella clamorosa per tutta la partita pezzo di merda eh la lettina del merda allora sicuramente col ballista spero di poter fare un qualcosa di meglio perché è un po' più facile da giocare fail fail 2 attenta il trickshot adesso non cazzo di trickshot non ho fatto in tempo neanche ammirare la finestrella porca puttana per lanciarmi che cazzo eh no siamo sotto di 2 vedi grande Bruno Pizzul che porta sfiga nel dire caputana ci impiega 20 minuti a far sculare il colpo è incredibile è frustrante io ve lo dico ragazzi è frustrante come cosa abbastanza perché voi se sparte un colpo e lisciate potete anche lasciare il joystick per terra ma tranquillamente tanto non riuscite a fare il secondo colpo in tempo va il no scope che non va non potete non potete proprio farlo secondo colpo in tempo merda a meno che non siete tipo 300 metri di distanza e fate in tempo a rifugiarvi da qualche parte 16 pari agonia comunque penso che comunque le partite fatte così tirate fino alla fine te la tua betti di merda possono essere un po' più divertenti da vedere rispetto magari vabbè ok magari un gran gameplay può essere bello lo stesso però in live quando c'è bagarre che si suda particolarmente con i 45 gradi dell'estate del momento pezzo di merda poi col cecchino veramente cioè se gioco con le armi posso veramente parlare tranquillamente fare quel caso col cecchino devi stare sempre sempre attenti a sparare al centimetro siamo tutti a 17 e 16 best partita equilibrata della storia un pezzo di merda no non riesco a prenderlo raga ho paura che mi mi fucili un secondo che esco tutti gli altri dove sono ola mora dai è già partito a 20 quello però andiamo a cercarli di là stun 21 porca troia dai dobbiamo rimontare e no così no 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 arrivi da qua vero no figa mi stava ho paura stare qua in mezzo cioè eh dio santo dio santo mi stava aspettando anzi angoscia da live questa proprio maledetto ole ole e il terzo uh c'è anche il terzo c'è quarto qua fail vai vai che mi hanno recuperato qualche punto qualche punto l'abbiamo recuperato e un cazzo già 24 quello go 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 qua c'è il punto di spawn centrale dai 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 che un cazzo punto di spawn centrale ecco arrivo da qua scappa altrove vaffanculo 26 merda sono sotto di un bel po' siamo sotto di un bel po' forse non ce la facciamo maledetti aiuto ah da dietro bastardo dai estorm io sto zitto ragazzi perché sono in concentrazione time proprio pesante perché si è suicidato sotto un treno mentre ti stavo sparando io perché si è suicidato sotto il treno quello bastardo maledetto che mi hai tolto la kill ah non ho fatto in tempo rallentati fermati no dai 25 26 25 26 e ciao da dietro così no roffi roffi amico mio no hitmark è così no eh dai 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 26 28 porca puttana 27 28 pezzi di merda no puoi essere così across the map non ti puoi mettere così across the map 27 28 madonna angoscia angoscia e questo vado con la pistolina perché è tipo violenti via via 29 pari torna fuori torna fuori se ce l'abbiamo fatta ragazzi angosciante come partita mamma mia 20 solito come anche era capitato tipo due partite fa tipo 29 29 pari questo se non lo aspettavo usciva e mi sparava invece no ho uscito di schiena tranquillamente lui sapeva che ero qua e mi esce di schiena mi fa vedere il culo comunque ragazzi prima partita andata mo piccolo stacco e cerchiamo un'altra partitina con il ballista seconda partita ragazzi è capitato slums ho cambiato la lobby così per girare un pochettino con gli avversari cambiare un pochettino ho cambiato slums la prima partita e ci facciamo questo prima partita ne ho fatta un'altra prima però a metà ho dovuto interrompere tutto quanto che è sonato il campanello un macello come ogni volta se non va tutto liscio ogni volta non va bene tra l'altro ieri ho registrato lo stesso episodio lo snapping in live bellissimo uscito benissimo e poi alla fine ti da tipo la traccia audio vagata che non si sentiva quello che avevo fatto io nel commentare quindi duro di fare tutto quanto da capo però può capitare diciamo queste cose da un nervoso assurdo perché magari voi siete contenti di come sia venuto un video come sia andato tutto quanto e invece dovete rifare tutto da capo che ovviamente essendo un live non verrà mai uguale bello uguale o riuscirete mai a dire le stesse cose fare le stesse cose comunque ieri c'era slums nella partita di ieri vediamo se riusciamo a fare qualcosa di decente almeno perché comunque slums wow è un nemico è una delle mie mappe preferite in tutti i controlli poi è veramente bella molto carina e quindi speriamo di fare un qualcosa di buono qua c'è sempre un sacco di gente quello e l'ha camperato lì dietro no ma non vuole uscire facciamo il girotondo ormai qua il girotondo è un cazzo anche a me me lo stavano facendo girandomi attorno aspetta un saluto alla fontanella devo farlo per forza ok ok ho sbagliato si si ho capito me ne vado me ne vado non ti incazzare però per forza un saluto alla fontanella cazzo fonte di saggezza lol questa è una Betty vaffanculo se hai le tue Betty ce n'è una anche di qua olè allora aspetta aspetta un momento mai visto mai visto tornerà in no non mai visto ok il ballista comunque ragazzi come vedete a meno che non faccia qualche hit marker ogni tanto l'hanno depotenziato cioè l'hanno rallentato un po' di meno quindi è ancora decentemente giocabile diciamo però insomma da un po' fastidio questo DSR che fate conto che se sparate 4 colpi e fate 4 kill nel minore tempo possibile non appare neanche la quote feed on screen e quindi non potete fare neanche le clip a meno che non fate dentro un collateral o fate il reload cancel che quello non l'ho fatto in tempo ricaricare il reload cancel che è quello che fate che fate che si faceva ad esempio su mv3 che ricaricate l'arma e correte così che poi il colpo è già pronto prima della sculata diciamo automatica poi non so come spiegarvelo però si chiama reload cancel una roba del genere e quindi mannaggia l'avevo preso quindi niente vediamo un pochettino slumps come va qua c'è sempre un poi il bello è che sono tanti vadonna che rischio no no non ce l'ho fatta non ce l'ho fatta rimango in sospensione col fiato aspetta quello oh no uh che culo che culo il no scope neanche l'avevo centrato dritto col no scope tra l'altro ho sparato storto il no scope e il nemico era messo storto rispetto alla mia visuale comunque niente ma il no scope non va siamo a rischio comunque non è che stiamo stravincendo platealmente sono lì a meno 4 e è abbastanza rischiosa come cosa vai io ho finito le cose da raccontarvi a livello di canale così poi non so come si è riuscito a raccontarvele prima perché comunque mentre gioco con il cecchino ragazzi non so provateci se qualcuno non abbia mai provato a fare un live commentare con un cecchino e cercare di fare un buon gameplay allo stesso tempo provateci che sclerate no 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 non saltare la partita ti prego ti prego ti prego ti prego sta andando bene tutto a posto preghiera accettata non mi far crashare la partita ti prego aspetta lì c'è un nemico puttana c'è anche la madonna c'è anche la mitraglia lì la torretta bastardo ho sbagliato io andiamo dall'altra parte della mappa che già non si può stare meno due dal nemico mi abbasso dai 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 dobbiamo ricercare hit marker madonna hit marker siamo a rischio qua del rimontone nemico dai 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 dobbiamo cercare di tenere il vantaggio via dai 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 più 3 meno 10 alla fine no bastardo sta andando bene comunque il secondo non so se no merda ha messo la torretta là è un macello se ha messo la torretta là fa un rimontone perché c'è lo spawn e fa spawn kill con la torretta dove era questo ah eccolo qua io adesso cambio classe metto la classe con le amp e gliela vado a distruggere senza fare una kill con quell'arma se vedo che inizia a recuperare velocemente perché non puoi mettere il mitraglione allo spawn che cazzo ha fatto questo no merda mi ha inculato è meno 7 ah l'ha spostata l'ha messa nell'altro spawn la torretta che figo che figo aia aia grazie antischegge hitmarker orcatroia l'hitmarker però tutto finito con la pistolina per forza aia fail hitmarker oh la era ora dai ragazzi ne mancano 4 io sono concentratissimo per cercare di fare un buon gameplay nel frattempo eccolo uh preso aiai non l'ho fatto in tempo dai meno 3 quello deve farne 10 devo far no non posso dirlo non posso dirlo mi porto sfiga da solo comunque ragazzi inizio a dirvi che ah non inizio a dirvi niente l'ultima ole 30 a 10 ce l'abbiamo fatta ce l'ha andata bene dai slums comunque è una mappa che mi piace particolarmente mi trovo anche molto bene quel cecchino poi il ballista è molto più facile del dsr niente ragazzi questo è stato lo sniping in live ma i numeri li ho persi con queste serie dove abbiamo provato un pochettino appunto il dsr e ballista dopo la pace che sono stati un po' rallentati spero che vi sia piaciuto il video ovviamente adesso come vi ho detto anche all'inizio del video durante il video tutto quanto sono in arrivo tanti video particolari non vi voglio spoilerare niente di particolare comunque seguite la pagina facebook per i vari aggiornamenti arriveranno anche altri video che mi avete chiesto tipo magari lo sniping eh si sniping in live il po' di arma con johnny però adesso johnny è in vacanza quindi aspetto che torni anche con gli altri per fare qualche video magari di gruppo dobbiamo aspettare di incontrarci un po' tutti quanti perché con l'estate c'è chi parte e chi non parte e niente ragazzi detto questo io vi ringrazio per aver visto il video spero che vi sia piaciuto vi ricordo di lasciare un bel mi piace qui era Ron ragazzi e alla prossima bella ciao ciao ciao